Oggi è venerdì, l'ultimo giorno della settimana, ci troviamo al nuovo di Via Olimpia, si stanno allenando tutte le categorie all'impuori dei giovanissimi e allievi, qua il gruppo dei pulcini di mister Giulio Massimini, là in fondo si vede i portieri allenati dal preparatore atletico dei portieri Aurelio Gaspari, all'altro lato c'è un altro gruppo che c'è Nicola di Campri, a quest'altro gruppo c'è un altro gruppo di primi calci, c'è mister Roberto Verna, a quest'altro lato c'è sempre i piccolini di mister Gabriele Di Felice che è anche coordinatore dello staff tecnico e questo bel gruppo di ragazzini a piccolo trotto con la classica divisa azzurra sono i nostri esordienti, i nostri esordienti stanno riscaldando, mantenete lo stesso passo ragazzi, con mister Gabriele sta facendo fare i piccoli esercizi, fermati Carol, fermati, no, non capisci l'esercizio, fermati, fermati Carol, fermati, vai di là, qua sono i piccolini di mister Gabriele, ci siamo capiti come è l'esercizio? Il mister gli ha fatto vedere un paio di volte come si esegue l'esercizio correttamente e adesso i ragazzini lo ripetono, dai, pronti, via, a quest'altro lato c'è il gruppo di mister Roberto Verna, qui è il gruppo sempre di Giulio Massimini, questi sono gli esordienti, adesso c'è l'altro mister Giordano Simone, adesso hanno terminato la corsetta e sono pronti ad eseguire gli ordini del rispettivo mister, un po' di respirazione e esercizi, dai, 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 piu' indietro, dai, piu' indietro, l'orevo è piu' indietro, sono tutti nella classica divisa, azzurra, che non c'è la casca divisa, sono nuovi i nuovi di quest'anno. Qua quest'altra porzione del campo c'è il gruppo di Giulio Massimini, sono Pulcini, questi qua. Ok, a quest'altro lato c'è i nostri portieri, manca solo Matteo e Daniel mi pare. Pronto? Qua c'è Cocco, Lorenzo Linella, Gianni Pierrucci e il piccolino... Vai! Vai! Bravo, subito su! Il mister Aurelio si sta preparando a dovere. E a quest'altra parte c'è un altro gruppo di piccoli, di mister Nicola, di Cambly, anche loro stanno facendo l'esercizio. Adesso ripartono altri due, altri due per eseguire l'esercizio. Concentrati ragazzi! Bravissimo Loret! Voi! Veloce! E li uniti! Vai! Dai! Dai, 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 dai! Via! 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 Meglio là, Loret! Via! Su, 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 su! Via! 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 Adesso riparto di altri due, mi scatteranno. Ciao Giulio, ciao. Ok, poi le braccia lunghe e tira.